In Croce Bianca c'è bisogno di te. L'associazione ha in programma anche un evento pubblico fissato per la sera del prossimo 8 aprile alle 20.30 presso la sala consigliare del comune di Landriano. In quella circostanza verranno illustrate le numerose attività in cui è impegnata la Croce Bianca e gli aspiranti volontari potranno capire in quale ambito potranno prestare la loro preziosa opera. Vi aspettiamo il giorno 8 aprile alle ore 20.30 presso l'aula consigliare del comune di Landriano.